E' stato un mese intenso di lavoro, quello di agosto, per l'Ufficio Gare ed Appalto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha proceduto ad aggiudicare 5 gare di appalto per interventi manutentivi straordinari su alcune strade provinciali e per la messa in sicurezza della viabilità secondaria. Sono stati appaltati interventi manutentivi di 80.000 euro ciascuno per la strada provinciale 84 Genovese-Arizza, la 67 Pozzallo-Madina di Marza e la strada provinciale numero 14 Castiglione-Tresauro. La ditta aggiudicataria del primo intervento sulla strada provinciale Genovese-Arizza ha già cominciato i lavori per eliminare situazioni di pericolo in tempi rapidissimi. La stessa arteria stradale sarà oggetto di intervento con i fondi di cui alla delibera regionale, che prevede per la messa in sicurezza dell'intero tratto l'importo di 700.000 euro. Sono stati poi appaltati i lavori per un importo di 450.000 euro per la messa in sicurezza delle strade ricadenti nel comparto ovest della provincia ed altri 450.000 euro per il comparto est. Per queste due gare d'appalto i lavori inizieranno entro la fine del mese. Il dirigente del settore lavori pubblici e infrastrutture, Carlo Sinatra, sta poi predisponendo gli atti per una gara d'appalto riguardante interventi di segnaletica stradale per 190.000 euro e nell'ambito dei fondi Ex-Insicem sono previsti interventi per 100.000 euro per la riapertura al transito della strada provinciale 12-Giaratana-Buccheri, di 370.000 euro per la fruibilità del porto di Pozzallo e di 620.000 euro per l'ammodernamento della SP-82 Mortilla-Serravalle finalizzata ai collegamenti con l'aeroporto di Comiso. Insomma, il libero consorzio di Ragusa ha partato lavori per 1.140.000 euro per riammodernare e sistemare le arterie stradali della provincia di Ragusa.